Com'è giocare insieme a Gasbadou? Era un ragazzo e un mazzo, mi ha fatto questo assist meraviglioso. Poi lo sapevamo tutti che qualità di San Andrea, quindi un valore in più per noi. Ci dà una mano in tutti i sensi, anche come ragazzo. Un ragazzo che nonostante ha giocato in Serie A tutti gli anni, è un ragazzo bellissimo. Se posso che da allora anche ad Andrea com'è invece avere vicino un finalizzatore come Nuzio? Beh, posso dire che sta facendo quello che ha avuto a fare. Ingole ha sempre fatti, continua a farli e speriamo che continui ancora a lungo. Perché poi lui è il finalizzatore. Però un attaccante è fondamentale fare gol, nel senso che ti dà sempre la spinta. Lui è capace a farli e continui così.